Servo un'impresa questa sera al provinciale per il Trapani Calcio nel confronto con la capolista Benevento, già promossa aritmeticamente in Serie A. Una formazione da record, quella guidata da Filippo Inzaghi e che, nonostante gli ultimi due passi falsi, resta un'ardua squadra da battere. Il Trapani ha solo un risultato a disposizione per continuare a sperare per la salvezza in Serie B vincere. I Granata saranno privi degli infortunati Pirrello, Colpani e Stramberg, che salterà la quarta gara di fila per via di un problema ai tendini d'Achille precedentemente operati. Per Castori torna a disposizione dopo la squalifica scontata a Verona il difensore Stefano Scognamillo in ballottaggio con Michele Fornasier per la maglia da titolare lasciata da Pirrello. A centrocampo l'assenza di Andrea Colpani dovrebbe essere sostituita da Gregorio Luperini. Il calciatore toscano ha saltato le prime gare post lockdown per un affaticamento muscolare. Rientrato tra i convocati nelle ultime due gare ha giocato qualche minuto. Adesso per Luperini si fa avanti la possibilità di scendere tra gli undici titolari. In avanti Filip Piszczek appare favorito su Nicola Dalmonte. La forza fisica dell'attaccante polacco potrebbe essere un'arma da sfruttare per impensierire la difesa del Benevento. Dalmonte comunque potrebbe trovare spazio a partita in corso con la sua velocità determinante nelle gare finora disputate. La franchezza e la schiettezza hanno sempre contraddistinto Fabrizio Castori che non si lascia condizionare da una formazione che ha già conquistato aritmeticamente la Serie A. Ascoltiamolo. Sarà una partita difficilissima con una squadra che ha ammazzato il campionato quindi questo la dice lunga sulla sua carattura tecnica. Noi però siamo concentrati su noi stessi, sappiamo che dobbiamo compiere un'impresa, giocare una partita perfetta per poter venire a capo di un avversario oggettivamente molto forte. La squadra sta bene fisicamente, l'ha dimostrato nelle ultime partite che è stata in grado di rimontare a due risultati negativi nei minuti finali. Quindi una squadra che ha la capacità di alzare il ritmo nel secondo tempo e soprattutto nei minuti finali vuol dire che sta bene a livello di condizione. Per quanto riguarda i singoli diciamo che Stramber, Pirrello e Colpani non saranno convocati perché non sono in grado di giocare, però chi lo farà sarà sicuramente in grado di dare al meglio e al massimo il proprio contributo. Enuperini è recuperato, è un giocatore importante in questo momento in cui si arriva verso il finale di campionato in cui qualcuno, visto che il campionato propone tanti impegni ravvicinati, se la squadra ha più alternative diciamo che sono risorse in più perché comunque si possono girare i giocatori e questo significa averli più freschi, più pronti di partita in partita. Grazie.